Il Partito Democratico di Pescara torna ad attaccare la giunta Masci. Questa volta sotto i riflettori dei consiglieri comunali di opposizione sono finiti i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che vede la città adriatica esclusa dal progetto per la realizzazione del tracciato per la metropolitana di superficie e l'acquisto di materiale rotabile, tema che coinvolge anche il dibattito su Viale Marconi. Questo progetto che prevedeva la realizzazione del tracciato BRT che prendeva tra l'altro via Castellammare quindi in un certo senso un po' riprendeva il progetto della passata filo via ma allo stesso tempo permetteva di creare un'infrastruttura che coinvolgesse anche San Giovanni Tietino. Un problema serio questo perché viene anche ad impattare nel momento in cui c'è quest'ampia discussione su Viale Marconi. Questa esclusione dalla prima ripartizione è la più pesante in termini economici, 62 milioni di euro ed arriva dopo la bocciatura dei progetti legati al bando sport e periferie 700 mila euro e qualità dell'abitare 15 milioni di euro parzialmente finanziati dal PNRR. Per quanto riguarda la qualità dell'abitare si poteva attenzionare molto la questione delle social housing o delle co-housing di cui c'è necessità nel nostro territorio. Allo stesso tempo per quanto riguarda i fondi proprio specifici relativi alle scuole avevamo chiesto di portare degli elementi innovativi anche evidenziando degli interventi specifici per lo 06 cosa che noi stiamo chiedendo ormai da quando questa amministrazione si è insediata. Quello che ancora una volta sottolineiamo non serve aprire il cassetto e tirare fuori dei progetti. Qui bisogna avere un'idea futuristica che vada al di là di determinati limiti che possono essere quelli dei tempi eccetera e soprattutto imparare a programmare questa amministrazione purtroppo questo ancora non lo sa fare.